Il giornalismo sta cambiando insieme alla società? Sì, cambia, cambiano i mezzi con cui viaggiano le notizie, le informazioni, ci sono nuovi strumenti e nuovi modi di informarsi e di ascoltare le notizie, tra cui appunto i podcast sono uno di questi nuovi mezzi. E lei pensa che sia un bene o un male? Non so se è un bene, tutto quello che porta a nuove cose, quindi possibilità di allargare l'informazione, il giornalismo, che non può essere più considerato solo come il giornale, la carta stampata o televisione, è un bene. Più si diffondono le informazioni, meglio è.